Quanti di voi si ricordano delle cassette audio? Tanti! Queste cassette qua, che per registrare si usava il registratore. Mangiacassette si chiamava, si chiama ancora perché si usa ancora, perché io ho un'infinità di cassette, ecco, e a volte si sporcava la testina del mangianastri. Allora bisognava pulire, sì, col coton fioc. Qui con un po' di cotone, chi col ditto andava dentro. Invece c'è anche questo apparecchio per pulire. Adesso ve la mostro. Tanti non l'avranno neanche mai vista. Adesso ve la mostro. Ecco, questo qua, per pulire le testine. È una cassetta, che mettendo nel mangianastri, c'ha il meccanismo per pulire. C'è la spazzoletta qui. Quando gira una peina, facciamo, quando gira il nastro, questo fa, pulisce, va avanti e indietro e pulisce la testina. Si mette il liquido, questo qua. Si mette alcune gocce sulla spazzola qua, dopo ci sono le spazzola qua, dove gira la rotellina. E quest'altro, dove c'è il perno, dove mangianastri. E questo gira, si muove avanti e indietro, così. E questo ve lo dimostro. ecco. Ecco, i mangianastri. Sono un mangianastri professionale, abbastanza. Better play. E qua si sta pulendo la testina. Senza stare lì col cotton fioc. Ecco. 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 pulire la testina, diciamo, la memoria, basta fare un clic, si cancella, si elimina, si aumenta magari con qualche strumento, anche gli acuti, i bassi, tutto è più semplice, c'è più problema di meccanicamente pulire, la tecnologia va sempre più avanti, ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!